segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te alvini come dicevate prima era un confronto questo nel veneto è stato interessante anche perché dava l'idea da un lato c'era la proposta di zaia che dice di fatto si può cercare di contrastare meloni perché il problema della lega è sopravvivere alla sopravvanzata della degli fratelli d'italia incalzandola dico tra virgolette da sinistra e quindi c'è una destra che può prendere il tema dei diritti salvini invece dice no noi dobbiamo cercare di resistere a meloni provare a sopravvanzarla da destra con vannacci quindi quello zaia ci mette diritti e salvini ci mette vannacci il risultato del voto del consiglio regionale del veneto però per con il contributo del partito democratico ha dato ragione per il momento a salvini ma zaia non è sconfitto zaia con questo con questo sono mesi in realtà se non è un anno che zaia sta dando l'idea di poter volere uscire dal veneto di avere un'idea anche non solo della sua regione ma del 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 paese se non anche delle cose davvero importanti che riguardano la vita dei cittadini non soltanto quelli della della sua regione quando ci si occupa di di fine vita evidentemente è un presidente di regione che sta però però assolutamente evidente non so che fine farà salvini dopo l'europeo l'impressione che al sud la lega non esista più penso che la non ci siano che il progetto di costruire la lega nazionale che era la la grande il grande vento la forza che aveva raccolto salvini lo aveva poi proiettato anche al governo del paese con i cinque stelle in quella divertente per alcuni faust e per molti fausta stagione di governo che fu il conte 1 quel vento era dovuto all'offerta di un partito di destra nazionale che non esiste di fatto più quindi io credo che salvini andrà molto male alle lezioni da 34 a quello che sarà lui spera il 10 trimezzamento come dice il trimezzamento si ma comunque tutto viene mangiato da fratelli d'italia la lega andrà molto male a quel punto ci si dovrà chiedere si chiederanno i maggiorenti di questo partito che ha una sua articolazione interna come ben sappiamo i maggiorenti sono zaia sono federica il governatore del friuli poi ci sono altre personalità importanti come fontana in lombardia ma anche giorgetti l'eterno giorgetti al governo costoro a certo punto diciamo dal dopo papete hanno non dico perdonato non hanno avuto il coraggio di eliminare fare fuori non trovo il termine più esatto il segretario perdente del del loro partito che ancora comunque sapeva esprimere una sua ragion d'essere e però è anche vero che salvini non è più l'uovo l'uovo la gallina dalle uova d'oro cioè quello che produce grandi risultati elettorali allora si chiedono e se lo chiedono adesso il privato non sono coraggiosissimi nessuno di queste quattro persone quattro dirigenti della lega che abbiamo citato si chiedono a che ci serve ora salvini dopo le elezioni europee dovesse andare veramente male la lega la speranza di alcuni non che credo anche di giorgia meloni che un po si spaventa di un salvini perdente dunque incattivito e che salvini faccia la fine credo di cola di rienzo no chi era quello che fu messo nella dentro una botta e gettato poi dai suoi stessi uomini nel tevere ecco